Un cognome importante il suo, soprattutto per chi ha avuto modo di conoscere il piglio e l'impegno per la legalità del compianto generale dei carabinieri Gennaro Niglio. Ma quello che ha portato a casa in termini di risultati finora il neodirigente della squadra mobile di Salerno, Tommaso Niglio, lo deve solo al suo lavoro sul territorio. Questa mattina in questura la presentazione del vicequestore aggiunto in arrivo da Latina, sotto i riflettori, l'impegno per la città. Le priorità sono quelle della città, quindi io mi metto al servizio dei cittadini di Salerno e della città di Salerno e poi le priorità verranno di volta in volta, soprattutto grazie al confronto che avrò con i miei uomini. In questi giorni, da ieri, ho già cominciato con le persone che lavorano con me, con i miei uomini, a girare per la città per cercare proprio di capire com'è fatta questa città. Il mio compito è soprattutto quello di mantenere uno standard elevato della squadra mobile di Salerno, così come il collega De Salvo aveva già fatto. Io ricordo quello che mi ha detto il primo giorno che ho preso servizio in polizia, augurandomi sempre di portare il cognome di Eniglio con grande onore, ma mai dal discapito dell'arma dei carabinieri. Sono fiero di portare questo cognome, sono fiero di avere una persona nella mia famiglia che si è distinta così tanto e per me è un modello al quale io cerco di ispirarmi, ma per cercare di far meglio. È un fatto che stiamo seguendo, ripeto, come ho detto prima, anche con l'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico, le volanti, perché è un lavoro, soprattutto questi fenomeni che vengono connessi alla movida, è importante il lavoro di squadra. Io ci credo molto, credo che il lavoro della squadra mobile sia un lavoro fondamentale, ma nell'immediatezza dei fatti è cruciale ciò che fa la volante.